Ciao a tutti ragazzi, oggi in questo video vediamo che attrezzatura portare per un trekking al rifugio che va bene più o meno diciamo dalla notte singola al rifugio fino alla settimana di trekking. Qualche settimana fa abbiamo parlato di attrezzatura per il trekking giornaliero che naturalmente ritroveremo anche all'interno di questo video che se siete curiosi vi lascio qua nelle schede in alto a destra. E direi di iniziare subito questo video appunto parlandovi innanzitutto dello zaino che ho scelto. Questo zaino qua è il Denor Face Hydra da 38 litri forse anche un po' grosso per il nostro scopo nel senso un 35 sarebbe andato decisamente bene ma se non sapete che zaino acquistare per questo tipo di escursioni anche qua ho fatto la guida all'acquisto che vi lascio sotto in descrizione. Quindi dicevamo zaino che andiamo adesso a riempire con tutto l'occorrente. Io inizierei andando a inserire come prima cosa che andranno in fondo allo zaino quegli oggetti che utilizziamo di meno durante il giorno. E la cosa che utilizziamo veramente di meno è il sacco letto. Per dormire nei rifugi c'è bisogno avere il sacco letto, il sacco lenzuolo, chiamatelo come volete oppure un sacco a pelo però dato che le coperte che danno al rifugio ce le danno quindi non vedo perché dobbiamo portare un sacco a pelo io ho sempre utilizzato questo sacco lenzuolo di Decathlon non costa tanto, è in cotone, è un pochino grosso nel senso ci sono dei sacchi a pelo che sicuramente essendo in seta pesano meno ma costano un pochino di più. Io dico la verità con questo non so quante volte l'ho utilizzato davvero tantissimi sono sempre trovato bene perciò lui verrà con me anche perché è abbastanza economico poi naturalmente tutto quello che vi racconto se riesco vi lascio il link in descrizione e questo lo mettiamo come prima cosa perché utilizzandolo solo di notte sarà l'ultima cosa che andremo a tirare fuori dallo zaino quindi lui è il primo che finisce in fondo poi cosa andiamo a mettere? Di solito ci metto l'abbigliamento che spero di non utilizzare per una questione anche semplicemente un po' di scaramanzia ovvero piumino e giacca impermeabile questi qua spero sempre di non doverli utilizzare quindi magari li mettiamo in fondo che comunque sono facilmente che comunque si riescono facilmente a prendere anche durante un trekking se abbiamo uno zaino che magari si apre tutto ma anche non successivamente cosa andiamo a mettere? io ci metterei questa che non è altra che un asciugamano e microfibra anche lui comprato da Decathlon per pochi euro è all'incirca un metro quadro e questo basta e avanza quando dovremo farci la doccia nei rifugi ma anche non se dobbiamo asciugarci in giro comunque piccolino è il comodo so che la microfibra magari non è il massimo però sicuramente è decisamente più trasportabile rispetto a uno in cotone quindi anche lui finisce abbastanza in fondo nello zaino successivamente ci mettiamo il beauty allora dentro il beauty cosa ci vado a mettere? vabbè naturalmente spazzolino, dentifricio come sapone io utilizzo sapone di Aleppo perché mi dà modo di poter lavarmi sia il corpo sia i vestiti cosa che vi suggerisco un piccolo consiglio è quello di portarvi anche la mucchina non tanto per disinfettarsi le mani quanto da utilizzare mentre laviamo i vestiti perché alla fine il sudore non sono altri che i batteri e la mucchina essendo un antibatterico va ad eliminarli e mettendo un pochino di ammucchina quando laviamo i panni a lungo andare i vestiti tendranno a puzzare meno di sudore quindi è un piccolo consiglio e naturalmente vabbè poi qua dentro ci andremo a mettere anche magari i fazzoletti crema solare e via dicendo quindi tutto quello che può essere il nostro beauty e anche lui finisce all'interno del nostro zaino dopodiché ci mettiamo magari il cambio qua dentro cosa ho? ho una maglia, maniche corte e un paio di calze corte per quando cammino di giorno poi mi porto anche per la notte una calza maglia lunga da utilizzare sia come pigiama che da utilizzare la sera nel rifugio che delle calze lunghe questo perché quando entriamo in rifugio di solito dobbiamo utilizzare ciabatte che molte volte, la maggior parte delle volte ci vengono fornite dal rifugio però andare in giro a piedi nudi diciamo con le ciabatte tende a fare freddo quindi mi porto sempre un paio di calze invernali abbastanza pesanti che poi potrei utilizzare anche durante il giorno e anche un paio di mutande in cotone perché quando cammino io prefisco utilizzare quelle in sintetico che danno meno fastidi meno sudore e anche meno odore quindi naturalmente poi la sera andando sempre a lavare tutte le sere quello che utilizzo ho bisogno di un minimo di cambio quindi ho appunto mutande, pantaloni, maglietta è come secondo strato nel caso di andare a utilizzare quello che ho utilizzato per camminare e via dicendo quindi questo è tutto il cambio che mi porto io e anche lui va a finire all'interno del nostro zaino successivamente kit di primo soccorso questo non può mancare mai 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 questo è un ottimo kit che io ho utilizzato da tantissimi anni naturalmente va aggiornato vanno cambiate le cose quando scadono vabbè anche di lui trovate il link in descrizione e va a finire qua nella parte alta dello zaino successivamente cosa andiamo a inserire? beh direi che visto che abbiamo inserito praticamente quasi tutto secondo strato nella parte alta che magari lo prendiamo più volte durante la giornata e guanti invernali che questi tornano veramente sempre comodi anche d'estate e anche loro vanno a finire all'interno dello zaino diciamo che per l'interno abbiamo praticamente preso tutto quello che vedete andrà all'esterno e appunto partiamo dall'esterno dalla nostra borraccia una borraccia qualsiasi da un litro va più che bene per favore utilizziamo le borracce non le bottiglie di plastica anche se sono più leggere per una questione d'ambiente quindi borraccia anche lei nella tasca esterna successivamente parliamo di alimentazioni e mi porto sempre un piccolo power bank oltre naturalmente al caricatore del telefono mi porto un power bank perché non sempre si riesce a caricare il telefono ci sono rifugi che magari non hanno nessun tipo di alimentazione sono magari pannelli solari quindi si tengono diciamo l'energia per loro e non la danno agli ospiti oppure ci sono rifugi che sono talmente tanto grossi talmente tanto frequentati che ci sono quattro spine in tutto il rifugio e in pratica per riuscire a caricarlo dovrete alzarvi alle tre di notte per andare ad attaccarlo e dato che non sempre c'è la possibilità di caricarlo un piccolo power bank questo in particolare da 10.000 mAh non pesa tanto lo butto dentro posso utilizzarlo anche di giorno se il telefono si scarica perché guardo tanto le mappe quindi fa sempre comodo power bank portatevelo sempre quando andate in via per più di un giorno e lui lo mettiamo magari nella tasca interna del cappuccio qua così insieme a lui nella tasca interna io direi di metterci la torcia frontale che anche lei serve sempre anche e soprattutto magari per girare nel rifugio la notte per non accendere tutte le luci e basta qui all'interno di questa tasca non ci metterei più niente passiamo alla tasca esterna dove andiamo a mettere coltellino svizzero piccolino non c'è bisogno di portarsi dei macceti in montagna un coltellino piccolo basta e avanza successivamente barrette qui vi consiglio diciamo di sperimentare quante ne avete bisogno per ogni giorno se ne avete bisogno due vabbè magari riuscite a portarvi anche le barrette per tutto il trekking se non riuscite comunque tenete conto che nei rifugi si possono comprare magari non le barrette che piacciono a voi però cioccolata qualche snack di solito qualcosa si riesce a comprare quindi non pensate di dover partire magari con 20 barrette non potete acquistare qualcosa anche camminando io di solito una barretta la metto sul cinghia lombare in modo tale da averla sempre a disposizione quando ne ho bisogno e le altre le metto o sopra nella tasca in alto perché riesco poi a prenderle in autonomia oppure all'interno se sono tante quindi questo lascia un po' a voi decidere dove volete metterla sempre sulla cinghia lombare fazzoletti oltre a quelli che ho inserito all'interno ne me ne tengo un pacchetto sempre anche all'esterno occhiali da sole questi in alto oppure indossati dipende però comunque la custodia teniamola in alto facilmente raggiungibile cappellino questo lo mettiamo in testa naturalmente oppure all'interno dello zaino se magari non è una grande giornata e infine telefono telefono col quale io utilizzo anche le mappe grazie all'applicazione Komoot motivo per il quale ho dietro anche il powerbank perché se si dovesse scaricare per le mappe sarebbe un po' un casino e il telefono anche lui va a finire sulla fascia lombare facilmente raggiungibile per qualsiasi evenienza quindi anche lui sulla fascia lombare in conclusione proprio finito tutto ed abbiamo fatto il nostro zaino andiamo ad aggiungerci i bastoncini che soprattutto in un trekking particolarmente lungo non possono assolutamente mancare se di bastoncini non sapete quali scegliere ho fatto recentemente un video sui bastoncini da trekking una guida all'acquisto che anche lei ve la lascio naturalmente in descrizione ed eccoci qua zaino fatto finito siamo pronti per partire l'unica cosa che ci tengo a sottolineare è che questo è il mio zaino personale quello che io utilizzo come lo preparo ci possono essere varie varianti anche in base al clima che andiamo a trovare alla situazione meteo magari c'è bisogno se andiamo ad alta quota magari di aggiungere dei ramponcini c'è bisogno di aggiungere un pochino più di vestiario chi vuole può portarsi come dicevo un sacco a pelo oppure se non si vogliono utilizzare le ciabatte date in dotazione dei rifugi si possono portare le ciabatte da casa diciamo che si può variare in tanti tanti modi ma questo è un po' il minimal ecco e come minimal questo zaino così fatto e finito pesa 4,8 kg 5 kg senza acqua poi naturalmente in base a quant'acqua vogliamo portarci dietro perciò ragazzi nella speranza sia stato esauriente ed esaustivo ed avervi aiutato per i trekking che farete quest'estate io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao